Noi abbiamo appena concluso la raccolta delle firme per smantellare le riforme del ministro Fornero sul lavoro. Riforme per modo di dire in realtà si è trattato di taglio e di abbattimento di diritti, di diritti dei lavoratori frutto di conquiste maturate nel corso di decenni. Oggi mi fa sorridere sentire Bersani e gli esponenti del Partito Democratico parlare di necessità di riformare le proposte e le soluzioni adottate soltanto poche settimane fa in Parlamento. Considero molto più credibile il ministro Fornero quando si rivolge a Bersani e gli dice caro Bersani le hai scritte tu queste riforme, le abbiamo fatte insieme e soprattutto le hai votate insieme al Partito Democratico. Non si tratta di riforme da poco, si tratta di riforme che hanno smantellato il sistema dei diritti dei lavoratori. Penso per esempio all'eliminazione dell'articolo 18, una norma che consentiva al lavoratore licenziato illegittimamente di ritornare a lavorare nel proprio posto di lavoro, smantellata dal governo PD-PDL Monti. Penso all'indebolimento della contrattazione collettiva nazionale che dava forza ed energia al lavoratore e alle proprie rappresentanze aziendali nella trattativa con i datori di lavoro. Tutto questo non c'è più in Italia perché in 14 mesi si è avuta la forza, con la complicità esplicita del Partito Democratico, di smantellare un sistema di tutele e di garanzie. Noi invece crediamo che in un momento di difficoltà i lavoratori abbiano il diritto di vedere ripristinati i loro diritti e soprattutto abbiano il diritto di immaginare e di pensare ad un futuro migliore, un futuro fatto non di lavoro precario e quindi in questo noi un'attenzione particolare la rivolgeremo anche alla buona imprenditoria, alle piccole imprese, agli artigiani e a tutti quelli che metteranno in campo energie per assicurare buona occupazione rispetto alla deriva del precariato che si è affermata negli ultimi mesi e negli ultimi anni.